Sono state rideterminate le deleghe agli assessori per un maggiore equilibrio e la migliore funzionalità degli assessori. Si attendono ora le dichiarazioni programmatiche e di governo in Consiglio. Il Presidente dell'Aggiunta regionale Donato Toma ha provveduto all'attribuzione delle deleghe all'assessore Luigi Mazzuto e contestualmente ad una ridistribuzione delle deleghe al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di governo ed il monitoraggio semestrale delle attività assessorile. Il Presidente dell'Aggiunta regionale ha trattenuto per sé le materie relative alla programmazione, agenzie e partecipate, il bilancio, finanze e patrimonio, la comunicazione, la cooperazione internazionale, la ricostruzione post-sisma, le riforme istituzionali e la sanità. Queste invece le deleghe agli assessori. A Vincenzo Codugno, oltre alla Vicepresidenza dell'Aggiunta regionale, le attività produttive e sviluppo economico, internazionalizzazione delle imprese, accesso al credito, università, ricerca ed innovazione, turismo e marketing territoriale, cultura, molisani nel mondo. All'assessore Nicola Cavaliere, politiche agricole ed agroalimentari, sviluppo rurale, programmazione forestale, caccia e pesca, pesca produttiva, tutela dell'ambiente, difesa del suolo, protezione civile, politiche energetiche. All'assessore Roberto Di Baggio, urbanistiche e pianificazione territoriale, politiche della casa, housing sociale, enti regionali per l'edilizia sociale, istruzione e formazione professionale. All'assessore Luigi Mazzuto, politiche della famiglia, giovanili e di parità, politiche del lavoro, politiche sociali, terzo settore, politiche per l'immigrazione, tutela dei consumatori, enti locali. All'assessore Vincenzo Niro, lavori pubblici, viabilità di infrastrutture, sistema idrico integrato, sport ed impiantistica sportiva, trasporti e mobilità, politiche delle risorse umane e semplificazione dei procedimenti burocratici. Ora, lunedì, seduta del Consiglio regionale, con le dichiarazioni programmatiche di governo del Presidente dell'Aggiunta regionale.